buongiorno popolo ragazzi il natale è sempre più vicino le torri stanno arrivando i bancari di robin hood stanno venendo arrivando questa è la prima bancarietta e facciamo un regalo a tutti stai per la cento stamattina una pacca rossica 3 euro peppe solo 3 euro 2 euro e 99 guardate come sono bello vieni a vedere da vicino e farfallire le balene ti guardate come sono bello 20 rossi 3 euro ma non mi pagherai aggiungi un po che le patatine san carlo 10 centesimo pizzo 3 euro 3 euro pacca 3 euro solo dei diamanti di mano riprendi guardate che spettacolo 500 mila pacche rossi per tutto quanto solo a due minuti questi coppi perché questa c'è la pesca rino ma è un natale sarà da fare tutto quanto e poi vieni a prendere un presente vieni a me vieni a prendere un presente guardate che spettacolo guardate che spettacolo guardate qui la faccia da pompeio e vieni 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 mezzuno vieni peppe guardate che spettacolo guardate questa spigola di mare guardate qua ti ti e ti e che te ne fai ragosce il beleno ti solo a spigola di mare 8 kg di pura abbondanza ma 8 kg pesata però ora ci muoveremo qui guardate qui parla ancora ti guardate qui chi si fino a ieri va a scopo si face l'addizione guardate qua riprendi i colori i brillanti del mare i diamanti del mare guardate là vieni da vicino vieni da vicino vieni la pupatella di mare lì solo il mare vieni come le pesiamo vieni come vieni lì le porto adesso ora di mare guardate che spettacolo mamma mia solo coralli del mare stamattina vieni solo coralli del mare potete portare a passare pure la spigola d'endici vieni a poco a scapire facciamo vieni le prove queste qua adesso vuoi dire 8 e 99 qua vuoi dire che si cadono i kg 8 e 99 qua e te che vuoi tutto quanto 8 e 99 vieni come i gran chi porti gran serra astici vuoi tutto quanto no puro sia e puro no vuoi tutto quanto 20 e 99 20 e 99 canadesi astici vuoi ci canti dire qua qua questa è stata che la protezione va a piccola astici blu alla costa di a gogo vieni da qua come sono bello riprendi ti ho la costa sempre tutto via fai di che spettacolo vieni da qui astici blu, astici meradese quello che vuoi, quello che trovo in la prezza ma tu mi hai raggiunto un regalo ti fai io per mezzo i capitoni 13 e 99 a chino ti ho da qua orbetello ti 13 e 99 a regalo il pepino 20 euro ti ho capito o capitolo ti sta a stare a diretti a diretti in diretti sta facendo a diretti in diretti capitone 20 euro che si fa che spettacolo i brillanti del mare in a prezzi vado a stare a ricevere a tu ieri e noi andano a pochino baccarla sempre a tu ricevere noi non aumentiamo noi ripassiamo l'accompagnio di un salvatore mi ha voluto a trovare o fratemi ristorante a pagare ma non è un ristorante non era, è una squisitezza guarda che si accapri direttamente a giornale siamo numero uno però voglio sapere che l'immuno quando aveva dovuto a trovare vieni qua qua riprendi pochi pezzi 7.850 l'identice locale è proprio fratemi maronami cernia viva guarda qua cernia locale 10 kg riprendi poco la spigota quanto è? 7.970 ho sbagliato di 30 grammi vieni con me stiamo a far vedere pochi prezzi pazzi lupini 3.50 pure il natale noi non aumentiamo ribassiamo per il nostro popo dal lino il popolo è sempre 8.990 spigola di 5.990 ho scomperati ho lasciato domani a te 3.990 gambe non riesce merluzzi 3.990 cocci 3.990 vendici 12.00 mamma mia che è una viso sempre grandi 7.990 gambe di 6 pescati scampi di 7.990 scampi sempre tutti vivi guardate rosso colpa di una braccia viva guardate qua bocconcini ai progetti spigola ai mare san pietro cerno guardate qua la faccia non fa bene gamberi rossi al gogo la cazzanima stamattina colpa locale per tutto quanto guardate qua colpa i bracci 14 cerno calamari vini 4 mazza voglia per tutto quanto guardate qua guardate qua guardate qua guardate qua 3 euro e far fallire voi stanno trasendo stanno arrivando guardate qua abbiamo messo un'altra cazzacora 4 vedi 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 venne vedi cazzanima facciamo vedere il colo e ora attenzione vedi 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 rimuovere guarda che ballerino il papà guarda che sono bello mamma mia appunto forse tutto vivo tutti i macchi tutti i bambini ho fatto 10 euro i paranziali progetto ma non mi sono? ma non mi sono? ma non mi sono? dove? vuole? ma non mi sono? ripeto Guardi, guardi used III Mi fa facci強i Está a gestire la finestra Va a compiere Direttamente da una gallinella con patrice Un bacione nel fondo ci richieste Guardi, fora facci Vieni qua Vieni a portare Che merda Fuori si vede sempre a casa vado a casa la marella pia vado a casa prendi un po' questo te vado a casa vado a casa scapponi reali mamma mia vado a casa 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 ora vado a casa ma ho vado a casa ma ho vado a casa uuuuh oh mamma mia 州 vado a casa invece vado a casa mi fanno Vi do un bacio alle porte, vi aspettiamo sempre, sempre ai nanti, facciamoci